Roma è arrivata in Romagna grazie al nuovo film commedia di Marco Limberti dal titolo Oggi a te, domani a me. Fra i protagonisti Maria Grazia Cucinotta, la riccionese Anna Falchi e Giancarlo Giannini. Proprio ieri l'attore Ligure ha girato alcune scene a Rimini accanto a Franco Trentalance. Giannini che nella pellicola interpreta un notaio non è appena arrivato in città ha da subito respirato l'aria felliniana e ricordate i giornalisti il maestro Tonino Guerra. L'idea, che è da subito piaciuta al regista Limberti, è incentrata su due protagonisti. Questi due cugini, i protagonisti Diego Casale che interpreta Gino e Omar Fantini che interpreta Vittorio si ritrovano a distanza di anni, Vittorio è sempre stato rispettoso, cattivo nei confronti di Gino e col fatto che Morella e Nonna si rincontrano per l'eredità e da lì scaturiscono una serie di gag asileranti davvero. Una palestra della risata, non solo per gli attori principali, entrambi i comici di Zelig, ma anche per i 30 ragazzi, provenienti da tutta Italia, che frequentano a Bellaria i corsi di Visconti, il laboratorio della risata. Tutti sono stati impiegati come attori minori all'interno di Oggi a Te, Domani a Me. Circa 500 gli attori e le comparse impiegate per l'intera commedia, che sta girando scene in diversi luoghi della Romagna, fra Sant'Arcangelo, Bellaria, San Marino, Riccione, Verrucchio, San Mauro Pascoli e ieri Rimini. Ancora circa 20 giorni di riprese, poi il vagone di Limberti si sposterà a Milano. Altri film sì, ci stiamo già pensando, quindi speriamo di ridare vita alla Romagna con questo film. Il film commedia Oggi a Te, Domani a Me uscirà nelle sale cinematografiche la prossima primavera.